Solisin? Perché Solisin sta qua? Che fa? Ah vai go go inhibitor Madonna lui ma io ti reporto Ma io sta affatto anche indietro Oh no Ok Ciao a tutti ragazzi qui a G-Snakey Noi siamo in compagnia di 5 barboni Ovvero sia Niggiatore mid Che è il più barboni di tutti 5 uniti compreso Ovvio Io sono il primo barboni di torno C'è Scorpio Salve C'è Luigio Ciao E poi c'è un ospite semi speciale Dai perché già si è visto in un mio video Jake Il più barboni Il più barboni di tutti E contro abbiamo anche Chok Del canale Abelico of Draven Ormai lo sapete Poi ci sta Aspetta True Robbo Che è il ragazzo che ha fatto il video con me con Timo in giungla Un altro iscritto che è Pumpkin E un altro che è Cimarolli La sfida del giorno è finire il game in 10 minuti Ci state? Merda 10 minuti è difficile Dovremmo tipo pushare in 5 mid Andiamo No scherzo No vabbè 20 minuti 20 minuti dai Anche perché poi devo andare a lavoro Li facciamo sorridare 20 minuti Ah ci tengo a dire perché sennò poi arriveranno i commenti sotto Che gli avevamo detto molto simpaticamente che facevamo troll pick Quindi ci troviamo contro il Timo che l'ha usato 3 volte Un GP che non posso immaginare quante volte l'ha usato Un choc con 2 stat fate di carry Ah ma è di carry? Si E quindi li abbiamo trollati a vicenda Cioè noi a posto di fare il troll pick li abbiamo trollati punto Cosa molto buona devo dire Qui ma Oh GP mid E AP Da notare che è un modo hop Si è AP Attenzione è AP GP AP OP Si vabbè ma fallo giocare però Cioè ho fatto solo un piccolo poke Oh mio Dio la torre Intanto inquadriamo la guest star del momento Odio Timo Luigi dice no? No in realtà Luigi Stam facendo niente tipo Eh infatti speravo in qualche azione mega galattica Invece non so da fare nulla Per report Attenzione Jake fa un minion Oh 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 la vado Oh ragazzi c'è l'isin C'è l'isin Mi sta a fa Mi sta a fa Oh oh zio scendi Arrivo arrivo Ha sbagliato a mettere la ward Probabilmente ha tirato pure la Q dall'altro lato Io ho perso il buff comunque Il loro blu però c'è ancora Passiamo alla parte divertente Anche il tuo blu c'è ancora Perfetto torno Bravo No va Banana Banana No Madonna ninja però tu c'hai culo No Outplayato No no tu c'hai culo Comunque se mi sbriga a fare il blu possiamo andare a stila pure il loro Perché lì probabilmente era le call Oh no mi ha preso di slow A 3 HP sta Morgana E' troppo Io lo stiamo flipando Oh guarda qui Ma sta ancora a giocare lì in mid Vabbè ma dai poverino No la torre Merda E' rischiavo Che rischio Non ti pensavo che fosse il torno Adatti al blu loro Sto nerf di Yasuo lo senti ninja? Oddio ninja Brutta idea Ma è più da quello del genere Dai ma quello però c'ha culo peggio di te ninja Ti è salvato tipo con un HP Fanculo Vabbè Vabbè Bastardo Ciao blu Immediatamente il posto Oh no c'è Ma l'hai visto quelli sim? Sì SS Ok è tornato Non capiranno nemmeno Oh Non fa danni Voglio l'assist No no ma slow waddo Tanto fa tipo 20 danni Voglio l'assist Eh uccidilo Che mongolo C'è anche il GP Oh l'auto Raga venite qua No Dai GPAP Girati Ci dirò Sì ma ci stanno anche gli altri Ecco appunto Fuck Ma sto game Sta andando un po' a cazzi sua insomma Cioè non ha un senso preciso Cosa te lo fa pensare? Già Io non lo so Questo snachino che pensa minimamente che questo game non ha senso Sì sì scusate ragazzi non volevo Lascerò che siano le mie mani a scelare Come sta andando in top con Timo? Io non ti sto a guarda mai L'ho ucciso O comunque vado Odio semplicemente Timo Vado di full AD via Sappiatelo E vai Ha flashato mid Sì ho visto Ecco è come sento che l'azione in bot sta per arrivare Quindi muo inizio i lupi e poi ti guardo Eh spai che non ho il grabbo Allora adesso 5 secondi Eh ma giocano pussy Dai dai me lo sento come ho richillato arrivo Vai ve sto a guarda Eh Guarda mi stanno back Allora niente Continuo a farmare Dai diamolo Dai dai l'ha usato L'ha usato Aspetta finché c'è lo scudo Non gli fai niente Tipo Infatti va a smorgare Vesta 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 No non sto guarda più Ok sto guardando C'è lì simi Che forti ragazzi Ragazzo Ah me l'ho dimenticato Me l'ho dimenticato che con la Con le arance toglie la mia ulti Veramente? Sì Era in aria Ha usato l'arancia E è ritornato per terra No senso No senso In effetti non ha senso Come fa Mangia un'arancia Torna per terra Che si appesantisce Gli rimane sullo stomaco Questa mola La metto Come citazione Da qualche parte Mangia l'arancia In grassa Oppi Veleno Le arance Il mio farm Sono tucilo Ma quel Timo No Ha messo già qualche fungo Timo Penso di sì Che palle Perché si era settato un attimo Dalla top E era venuto di qua Quindi io se passo così E faccio così In faccia di volo becchi Non l'ho presi Nooo Dodge Bello Liscio Vai via la sua volta No non è vero Che da Ti ho pure fatto Della via della Cado Oh c'è il red Donna That bot lane Vai ragazzi Secondo me possiamo chiuderlo anche in 15 minuti Ma mamma mia che brutta persona Vai vai go go ce la possiamo fare Però lo dobbiamo pushare Vado a prendermi il blu Inizio a pushare il brut Vai obiettivo del giorno Allora a posto dei 20 minuti 15 Io ce l'ho già anche 2 minuti Ti devo beccare Purtroppo quello mi bocca Con il veleno Dio caro Come? Come? Ma vabbè Ma hai registrato l'azione bot che mi hai fatto 2 contro 3? No Eh stavo Ma che è scarso Eh vabbè ma voi non mi urlate di Oh Dio 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 Se tu urli Ma attento che si appesantisce Oddio è vero si appesantito Oh mio zio Il lifestill Il lifestill Oh Dio le cose random Oh E ti sei salvato come me No 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 La carta slow motion che arriva Il lifestill mi ha salvato Dio zio Sei proprio un lifestill Mamma mia fai schifo Che ciocca è 0-2-30 CS Non lo vedo molto bene Urae Ragazzi se volete vedere come si usa un twist at fate Andate sul canale di ciocca che trovate in descrizione Urae Ecco ecco che c'è muore Luigi raga guardatelo guardatelo Ma cosa faccio un danno di quanto ne fa lui Ma io non ho re Ma fa tipo 0 danno Sì Da dat grab Oh ma adesso ne ha lasciata solo in bo Oh guardali Arrivano Guardali Arrivando aiuto So scared Ah No E dai Beh Mio No mio No Perché l'ha fatto Questi surdentano No no raga 15 minuti 15 E' cusciato in botta allora Arrivo arrivo Ti prendo mid e arrivo E' cusciato in botta allora E' cusciato in botta allora Ma lei sta da colpa sua stava dietro il morgana perchè si è spostato Ma perchè mi tocca a beccarmi un timo contro? Ma perchè? C'ho fatto E' cusciato in botta allora E' il karma E' il karma E' il karma E' il karma Oddio l'ho preso davvero Sono tipo tutti inutili Purelli E' vero Si è vero E' un altro grab zio Fammi caricare la cuba Eh Aspetta 3 secondi ce l'ho Madonna che report che te pigli zio Solisin? Perchè Solisin sta qua? Che fa? Dai dai go go inibitor Madonna lui ma io ti reporto Ma lui sta affatto anche indietro dai Oh no Oh no lo stun nooo Mio dio Twisted Fate OP Nooo Nooo Em Machchino vai back Fa culo Please Machchino no back Maaaaa Volevo quelli sin Machchino help e lo uccidiamo tutti Arriva 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 Dove va quello? No ho fatto il giro sbagliato Oh di qua Nooo Lola è anche vero Vai chok Vai chok Un nemico è stato ucciso E muori mortacci Nooo Prendilo Ma io pensavo che lo volevi tu Corri chok corri lascialo Lascialo vivere lascialo vivere PAM Dovevi lasciarlo vivere Oh no Nooo Ma che cazzo è scoppiato Noo Da faccio uccidiamolo Ah Sprateggimi con il tuo corpo E lo stavo facendo Raga Timo è possibile che venga di la Perché l'ho ucciso Quindi potrebbe venire di la Vai back ulti Back ulti Ci dirò Back lo quello che è morto La morte è mio Ok Mi ha flashato nooo Oh oh vieni 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 C'è un gangplank Oh zero mana zero HP E' un gangplank E' quindi No ok sono andato Senti questa battuta A tredici minuti O bitti Phantom Dancer No raga Quattordici minuti Gua tutti in bot Oh mio dio dai Dobbiamo fare allora diciassette minuti dai Diciassette? Vabbè ma Giusto perchè la vedo dover più per la L'arancia L'arancia L'aran... Non l'ha tirata l'arancia sto giro Andiamo bot o mid raga? Oh io voglio fare il pentachio Ha deciso Allora andiamo prima da Timo Scusa Vai engage su Twisted Fate Non ho la ulti Che palle però Quanto c'è a te manca la ulti zio? Eh 48 secondi Vabbè Oh raga io mi sto attaccare la torre che famo Eh io sono morto Continua ad attaccare No sto a morir No! Lo uccidete sento su Twisted Fate No! Prendete Robo Wuhuuu Ok Go raga due che piano la... La mid e due che piano la bot Go Ah no tu proprio vuoi pia Morgana è diverso Ok Non ho il morto Io sto qua li uccide tutti No il fungo Ah! Oh no! La torre qua! Ma dai ragazzi Ma dai ragazzi Sono qui per s'andare la torre Sono qui per s'andare la torre Sono qui per s'andare la torre Aiutatevi Eh che gli dico Stacchi la proteggimi Io ti stacchi la proteggimi Oh P ragazzi Come è possibile? No! Non mi ha toccato minimamente quella roba Ma... Ero venduto sui andare 3 revert ragazzi reverti il tanto troppo ma non mi ha toccato quello che è vero ma quello tipo enorme quello era il pixel della morte esatto se non lo conosci non c'è nessuno ora hai provato sulla tua pelle raga engage in mid, veloci io vado io già sto in mid attenzione 6.000 caitlin eh scappa scappa jack dice fuck this i'm out jack il traditore ah è vero che adesso è linea retta quello schifo aia dura tipo infinito sto dimontrano 2 secondi so much damage oh proprio da cattiveria perchè non volevo che ci ultava madonna denied oh no il red no oh mio dio ah l'item da jungler l'ho ucciso vai raga prima dei 20 minuti presto presto madonna che cattivo c'è madonna che cattivo attenzione presto presto vai raga fast fast mi fermerò io se lui l'iccide quanto stanno in base il snaggino si è tancato nooo no salviamo jake no raga finite finite prima dei 18 prima dei 18 attacchiamo il nexus vabbè c'è schifo però guarda x pepe x pepe nooo chiude 18 minuti ragazzi cazzo non ce l'abbiamo fatto report report all please comunque ragazzi sperando che questo game vi sia veluto sperando che questo game vi sia piaciuto ok vi rimando al prossimo video andate sul canale di check e di shock porello shock mi fa ancora tristezza però l'avete disegnato insultare shock ok ah si è vero andiamo un attimino a insultare shock aspetta li grabbo su mannaggia timo ma si dai allora ragazzi siete ancora in diretta volete fare dei commenti fan game fan game mannaggia ma cosa vuol dire in diretta ma non di dire neanche che l'hai registrato tanto ragazzi qua il su porta ha più soldi di tutti a parte di timo non volevo dirlo ma per forza Non è per forza cosa, non è per forza Non c'è di stare fermo No, nel senso Sì, basta farmare vaffanculo Se farmavo io, vedevi che c'avevo Con 500 di range, voglio vederti Ragazzi Ora potete salutare tutti insieme In una maniera pacata, tranquilli È stato un game divertente In fondo, no? Io mi sto ancora rificando per il calcio di Lissichia Mi ha calciato via 3 Mi è piaciuto lissini nearly Che è arrivato mida con ninja con 100 HP Lui fu il vita e stava per morire Come ho aiutato ninja Cioè, come ho aiutato true alla fine Comunque ragazzi, basta Devo interrompere il video Comunque Ciao, Phil Ciao a tutti ragazzi al prossimo video, salutate Ciao mamma Come c'è Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.